Le deviazioni assiali più ricorrenti nel bambino a carico del ginocchio e nell'adolescente sono le deviazioni in vario e valgo. Il compito dell'ortopedico è quello di correggere tali deviazioni per evitare un sovraccarico della cartilagine articolare e quindi patologie importanti dell'adulto, quali l'artrosi. Un tempo si ricorreva a tecniche chirurgiche veramente invasive che sconsigliavano nella maggior parte dei casi la correzione chirurgica. Grazie a questa tecnica innovativa riusciamo a correggere la deviazione sfruttando quella che è la capacità di crescita dell'osso, vedete una radiografia del ginocchio dove si vedono chiaramente le cartilagini di accrescimento. Ponendo a ponte, rallentando la crescita da una parte rispetto alla controlaterale, si riesce a correggere progressivamente la deviazione. In questo caso il posizionamento di una placca con le viti determina un rallentamento mediale a favore della parte esterna e quindi si assisterà nel tempo a una progressiva correzione della deformità. La tecnica chirurgica, questo è un esame radiografico che mostra appunto il posizionamento di una placchetta metallica A8 che viene posizionata verticalmente e fissata con delle viti metalliche. Queste viti metalliche penetrano nell'osso ma determinando una sintesi non forzata ma assolutamente elastica che non determina una lesione della cartilagina di accrescimento ma solamente un rallentamento. Al termine della correzione l'intervento di rimozione della placca metallica è estremamente semplice e la ripresa articolare immediata.